Riuscite a ricordare dove eravate nell'estate del 1991, ammesso che foste già nati? Io avevo 22 anni, studiavo a Bologna, avevo una grande passione per il rock, per il punk rock, anzi per l'arcore in particolare. Questa passione la condivide anche il protagonista del mio romanzo, che ha 19 anni, vive a Karlovac in Croazia, ha terminato gli studi e sta facendo il servizio militare, che è arrivato con la sua routine di brutalità e insensatezza a interrompere la sua crescita di giovane uomo. Quell'estate scoppia la guerra in Jugoslavia. Lui la attraversa e riesce ad uscirne senza particolari danni materiali. La cosiddetta guerra di liberazione croata dura poco. Il veleno che gli è stato inoculato dall'orrore e dallo schifo di quella guerra di nazionalismo tornerà presto a chiedergli il conto. Jugoslavia è un romanzo di formazione e un testo sulla guerra, che non può essere altro che contro la guerra. Uscirà a settembre per infinito edizioni di Modena. E vi chiedo di partecipare a questo crowdfunding preacquistando una copia per facilitarne l'uscita. Grazie.